Buongiorno a tutti, siamo qui con la dottoressa Daniela Uslinghi dell'Istituto Hoffman. Buongiorno. Allora, che cosa ne pensa delle donne che vorrebbero trovare una nuova storia, però mettono in atto tutta una serie di boicottaggi? Che forse sono ancora un po' insicure rispetto a volerla. O questi boicottaggi sono tipo delle copertine di Linus, faccio degli esempi. Quando una storia finisce si prende il cagnetto che si porta dovunque, è come una sorta di tutela e di scudo tra me e la relazione con l'altro, oppure mettere alla prova il nuovo, il possibile nuovo compagno raccontandogli tutte le tragedie. Credo che questi boicottaggi rappresentano e sono la manifestazione di una insicurezza interiore che una donna ha e che prima di buttarsi in una nuova relazione forse meriterebbe di essere guardata. Forse non hanno voglia veramente di una nuova storia, quindi. Forse non ne hanno voglia, forse ne hanno paura. Sì. O forse, appunto, non ne hanno voglia, pensano che non è così, ma la società ancora impone, insomma, si è sempre più prestigiosa se si è in una relazione che non. Grazie, dottoressa. Grazie. Grazie. Grazie.